Buongiorno a tutti, oggi prepariamo insieme delle verdure di campo miste con il coperchio così quick, semplicemente andiamo a mettere le nostre verdure sgocciolanti all'interno della nostra unità di cottura dove ho inserito il cestello forato. A questo punto aggiungiamo un bicchiere di acqua e andiamo a mettere easy quick con la guarnizione da diametro 20 perché io sto utilizzando un'unità di cottura da diametro 20, lo appoggio, clic, pistoncino giallo che va su e giù, accendo Navigenio in automatico e imposto il mio audio term a 6 minuti di cottura, due giri e mi fermo nel settore del super vapore. audio term sta suonando andiamo a vedere bene la cottura è terminata andiamo a vedere ecco qua le nostre verdure miste di campo cotte con easy quick ecco qua le nostre verdure miste di campo cotte con easy quick ecco qua le nostre verdure miste di campo cotte con easy quick ecco qua le nostre verdure miste di campo cotte con easy quick ecco qua le nostre verdure miste di campo cotte con easy quick ecco qua le nostre verdure miste di campo cotte con easy quick ecco qua le nostre verdure miste di campo cotte con easy quick Grazie a tutti